Ciao a tutti amici di Sbam, io sono Cook e io sono Max. Allora ve l'avevamo promesso, lo volevate, l'avete richiesto, ce lo chiede sempre in tantissimi, siamo riusciti a far comprare a Max un'arma, siamo riusciti a fargli rompere il fioretto che aveva fatto di non spendere nessuno. Basta merda. Basta merda, l'aveva detto, siamo riusciti a fargli rimangiare la promessa. Ragazzi, ha comprato un'arma. Mi raccomando, mettete il like alla pagina, like al canale, attivate la campanella e veniteci a trovare nel nostro gruppo Telegram, del quale trovate il link d'accesso nella descrizione di questo video. Buona visione! Bene Max, dai, raccontaci un po' di questa nuova pazzia, perché è una pazzia questa ragazzi, hai comprato un'arma non cinese intanto grande delusione, qua c'è il tradimento di Pechino, il tradimento di Pechino c'è stato, il grande tradimento di Ping un'arma, allora, diciamo la verità, questa è, penso che tra tutti gli sharps, questo qua come avete visto è uno sharps IAB, 4570, deluxe, doppio, doppio, con grilletto e staker, grilletto e staker, IAB che praticamente è la marca, diciamo sono, è la, l'ada degli sharps in America, perché hanno una bassa reputazione, questo sembra fatto bene, perché tutto sommato... comunque è prodotto a Gardone, non è che è stato fatto in un'officina a Mars, no, aspetta, forse sì... Ok, dai Max, dici qualcosa su questa follia, perché, allora, questo qua, comunque, per quanto sia un pezzo un pochino bello, siamo riusciti a stare nel budget Sì, siamo stati nel budget, siamo stati nel budget, quanto abbiamo speso intanto? Quanto era? 200 euro, abbiamo speso 200 euro Ok No, non sono contento, cosa me ne faccio? Non ci sono bisonti in zona Hai un fucile che può funzionare a polvere Polvere nere in fume, questo è vero Polvere nere in fume, hai un'arma che può sparare Che non si spacca Non si spacca, e adesso, soprattutto, con la grande crisi della componentistica da ricarica, hai un'arma dove le pallottole sono fondibili Tra l'altro col fondipale di un altro, perché stai sfruttando il fondipale di Gian, ricordiamocelo Questo è vero, questo è vero Bisogna solo vedere se tira dritto Ma questo temo che non lo sapremo mai Beh, no, abbiamo fatto delle munizioni Abbiamo fatto delle munizioni, quindi regia, portateci le munizioni Le sono dentro la sacca da pesci Sì, nel pattume Regia Intanto che la regia ci porta le munizioni No, non sono quelle, sono l'altra scatola Valletta Intanto, vabbè, non lo so, dai Come ti sembra, dai Ha uno scatto Lo scatto base è durissimo Cioè, ma, tirarci un sacco di patate Con lo staker diventa neanche un chilo Fa paura Poi È un'arma Viva Ecco C'ha Le solite due monte Come tutti gli schioppi antichi Tac E No, è durissimo Non ha senso Poi Per armarlo Si mette in mezza monte Si abbassa la leva Si scende tutto il blocco E si può infilare una cartuccia Che non faremo adesso Qua c'è L'estrattore Che Butta fuori la cartuccia Nel momento in cui si è abbassato tutto il blocco Si può riarmare Una seconda cartuccia Chiudere Armare il cane Sei pronti per far fuoco Poi abbiamo questa mira Regolabile A viti Abbattibile Non so perché Vabbè Però si può abbattere E si può regolare in altezza E forse anche in deriva No Quella davanti si può regolare in deriva Tra l'altro Tutti con i finimenti Qua c'è dei finimenti in ottone Qua c'ha tutto disegnato Bellino Bellino È molto Fin troppo lusso Per i tuoi standard Fin troppo lusso Per qualcosa di cui Non me ne faccio nulla Però va bene Va bene Va bene così Vedrai che adesso Ti appassionerai Allora queste qua Sono le cartucce Che abbiamo caricato Abbiamo caricato con Della polvere E super economica Rigranulata Parente Fireworks Il 10 euro al chilo Rigranulata Per farla diventare Decorosa E Palla fusa Con i tubi del cesso E grasso Grasso strutto Grasso strutto Quindi Vediamo 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 come si comporta Sulla linea di tiro Andrà malissimo Vai Ok ragazzi Max Vediamo se Questi 150 200 euro Di arma Sono Stati ben spesi Vai Proviamo Carica Come vi han detto Super economica Spariamo a 50 metri Su piastra Appena arriverà la diligenza La colpiremo Vai Max Beco sbil Allora Proviamo prima Con il grilletto normale Basso Ma sbaglio Era fiacca Abbastanza Allora la polvere Bisogna comprare Polvere più Più costosa Cioè hai smerdato I miei bossoli nuovi Con della polveraccia marcia No Tu hai fatto questo Sì Proprio io Spara alto Alto Vediamo Sto speaker Del cazzo Io mi sto Trascinando Ma questo cappello Dai segreti Di Brokeback Max Ma vaffanculo Te Devo continuare per molto Vai 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 Spara spara Gli indiani di merda Sì 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 boh fine allora max come è stata la prima impressione con il nuovo acquisto divertente ma è un bianco e dobbiamo comprare della polvere più costosa abbiamo esagerato con l'economia oppure dobbiamo solo mettercene di più dai la carne è pulita circa circa beh fa vedere i bossoli di risulta poi dai neanche troppo cotti dobbiamo mettere più polvere ma forse metterne un po migliore un po di buona hai crimpato i bossoli certo ho corretto la svasatura dai max non te le ruba nessuno le palle va bene ragazzi allora anche questa puntata dei bellissimi per ora si conclude qua magari ci torneremo sopra faremo un video un pochino meno approssimativo e meno a budget e riproveremo questo affare qua ai 200 metri oggi mi sa che le cartucce erano un pochino troppo fiacche per arrivare a 200 metri abbiamo esagerato col risparmio però per i 50 metri la dirigenza 50 50 metri l'abbiamo buccato non possono grazie a posto ragazzi da cook e da max è tutto